ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video della tutto tech ci ha contattato la società lumari ci aveva proposto un po di oggetti da poter ripresentare qui sul canale e io sinceramente visto che siamo a metà ottobre manca più o meno un paio di mesi a natale che io prediligo particolarmente e tra le varie cose che ci avevo proposto io ho scelto delle lampadine colorate smart possono essere collegate alla nostra assistente vocale quindi gli ho detto ok inviateci queste vediamo un attimino come sono ci sono arrivate adesso le apriamo insieme a voi facciamo la solito unboxing configurazione e quant'altro e vediamo come sono però mi piaceva l'idea di presentarvi queste visto che siamo non dico proprio a ridosso di natale ma siamo lì non perdiamo tempo prendiamo la scatola e vediamo cosa c'è nel contenuto questa è la confezione la società lumari come vi dicevo all'interno troviamo manuale di istruzioni che è in inglese e in tedesco la app è proprietaria quindi scaricate la app lumari scritto con la y non finale la pulsantiera qui c'è un connettore una presa con attacco sciuco via la copertura che andiamo a rimuovere delle fascette visto che magari sono da appendere da qualche parte e poi sono lampadine led sono 15 lampadine a boh che matassa di roba adesso sentirete un po di frossuono al microfono poi abbiamo il telecomando con molteplici funzioni accensione spegnimento modalità di utilizzo tutti i colori eccetera eccetera dei led sostitutivi ma sicuramente non si vedrà in camera non sa di no e poi un bulbo sostitutivo non si sa mai bene allora c'è una bella cosa adesso faremo tutta la configurazione qui quindi adesso vado ad attaccare la spina l'app l'ho già scaricata sicuramente mi chiederà di effettuare la registrazione e poi dopo la vediamo insieme entriamo subito nell'app ci chiede di dare l'accordo lumari vuole inviarci delle delle notifiche diamo ok crea un nuovo account quindi crea un nuovo account e ci vediamo dopo sicuramente sarà la mail poi manderanno un codice di conferma comunque ci vediamo dopo come dicevo prima ho inserito la mia mail da già la regione perché ci riconosce che siamo in italia vi arriverà un codice identificativo per vedere se la mail è corretta lo inserite e vi trovate in questa schermata dopo aver dato tutti i consensi a tutto quello che mi chiede qui ci dice di aggiungere il dispositivo vuole utilizzare il nostro bluetooth gli diamo l'ok prima di andare a fare il più in alto a destra per il dispositivo connettiamo le lampadine di solito il lampeggio sta a indicare il pairing quindi la configurazione facciamo più in alto a destra aggiungi dispositivo la localizzazione diamo l'ok come senti quando utilizzi l'app selezioniamo fonte di luce diciamo che sta lampeggiando avanti e adesso inizia la configurazione allora c'è scritto che va come al solito a 2,4 gigahertz però ho notato che quando queste cose richiedono i 2,4 gigahertz solitamente basta allontanarsi di una stanza dal wifi e dovrebbe riconoscere le lampadine quindi adesso facciamo finire la ricerca del dispositivo e ci vediamo dopo eccoci qui come leggete qui dalla schermata le ha trovate adesso prima cosa le andiamo a rinominare le chiamiamo natale poi dopo eventualmente potete cambiarlo anche in un secondo momento facciamo fine qui ci chiede quante lampadine abbiamo adesso confermiamo che sono 15 eccole qua allora vediamo un po possiamo andare ad effettuare delle variazioni allora questa cosa si bellissimo però come vedete se io trascino sul lato un po più diciamo con la luce calda non lo fa immediatamente devo rilasciare qui ci sono tutte le varie tonalità ok poi andiamo di capirla un po insieme altra cosa veramente bella come vedete nella schermata voi potete selezionare un tot di lampadine e queste fagli cambiare colore solo a quelle che avete selezionato ne potete spegnere solo alcune e poi ci sono i vari giochi di luce qui possiamo anche andare a tempo di musica quindi se per caso abbiamo della musica che sta andando possiamo sincronizzarle game romantic poi possiamo dargli il timer il countdown le proviamo a spegnere e le proviamo ad accendere adesso nell'applicazione della nostra assistente vocale per prima cosa cosa dovete fare andare negli nelle skill cerchiamo il lumari clicchiamo abilita l'uso fatta l'autorizzazione allora vi chiede di collegarlo all'account come vedete è venuto fuori anche il pop up di collegare l'account mettere di nuovo la password di far fare un giochino con un puzzle eccetera eccetera arrivato a questo punto è stato collegato adesso il nostro dispositivo vocale sta cercando il prodotto allora può finire in due modi o non lo trova ma se poi tornate indietro per uno scroll e l'ha trovato oppure dovrebbe darlo immediatamente comunque in qualsiasi caso non c'è nessun problema l'ha trovato e poi faremo la prova vocale perfetto adesso facciamo la prova accendi natale e come potete vedere questo è il risultato prove fatte un prodotto funziona bene è stato riconosciuto anche semplicemente dalla nostra assistente vocale si può comandare l'accensione lo spegnimento e la dimerazione delle lampadine secondo me è carino anche da mettere a peso magari per il periodo natalizio per tutta la stagionalità vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare questo prodotto e io direi che per questo video tutto ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.